Salve a tutti Blazers e benvenuti in questo nuovo episodio della serie di sopravvivenza Mi stavo chiedendo mentre menavo la spada per l'intro Vi immaginate se una volta facendo questa cosa Andassi tipo a colpire Giuliano e lo uccidessi Farebbe un botto ridere ma poi sarebbe un disastro Cioè sarebbe una rivoluzione del canale Un dramma, magari ci faccio un pensiero eh Giuliano Che ultimamente parli poco ma rimani comunque insopportabile Comunque, comunque ma dove voglio andare io Che ovviamente è notte e devo dormire Ah, qui ho rimesso le pressure plate Tanto questa non scappa, si è incastrata qui con il suo pot amatissimo Quindi questa volta non impedirò l'amore tra volpe Guarda cosa fa, la vedete là dietro? Ma dai! Stavo dicendo che non voglio impedire l'amore tra volpe e pot Però quello che stai facendo tu non è proprio diciamo romantico È più fisico il tuo amore Comunque vabbè senti non voglio saperne nulla Ragazzi che pazienza con tutti questi animali in casa Comunque vi stavo dicendo che è arrivato il momento di lavorare alla torre Anzi, ho già lavorato alla torre Jingle? Ciao un attimino da qui Vi faccio vedere prima internamente poi esternamente Internamente non ho fatto un granché Esternamente ho già fatto qualcosa Vi mostro gli ultimi update che ho fatto Allora, l'interno della torre Essenzialmente Sarà cavo Perché non so come riempirlo Quello che ho fatto è stato togliere le torce E mettere tutte queste scale Su cui appoggiano delle lanterne Per illuminare l'ascesa nell'ascensore Ascensore che ora Presenta questo Vetro Che ci permette di guardare fuori Mentre saliamo Non so neanche cosa dovremmo guardare Però mi sembrava una cosa carina Quindi quando tu sali Succede che vedi tutto Un po' velocemente Quando scendi Scendi e vedi tutte le lanternine Che abbiamo messo sulla parete Ora, la novità vera però È quella fatta esternamente Quindi in questo caso Andiamo a volare Con le litra Non ce li ho Allora L'altra volta Mi si sono rotte le litra Perché erano quasi rotte Ma l'avete detto in 200.000 Dovete sapere che le litra Si sono rotte subito dopo La fine del video E io sono caduto tipo così Non mi sono fatto niente Perché chiaramente Le mie armature Mi proteggono un sacco Allora Adesso che ho rimesso le litra Che tra l'altro Sono state riparate Perché ho fatto un giro nel land Vi faccio vedere Come ho aggiornato la torre E vi dico che Da lontano Non sembra cambiata Qualcosina sì Ma da vicino Noterete molto la differenza Ci planiamo un po' attorno Così vi spiego Allora sotto Le quattro balconate Dalle quali scende l'acqua Tra l'altro Una corrente d'acqua Mi è colata sul giardino Là sotto Ho dovuto ripiantare tutta l'erba È stato un dramma Come vedete Sotto la loro base Presentano queste travi Di sostegno Che servono per dare Una struttura Più solida Almeno apparentemente Perché la La fisica di minecraft Come vedete Laggiù Non ha senso Quindi diciamo Che era una cosa più Mia personale La torre in sé Invece È stata modificata In modo da avere Molti più dettagli Perché non la volevo cambiare Ma la volevo rendere Più moderna Più dettagliata Quindi come vedete Ho messo i pannelli di vetro Al posto dei blocchi Ho messo queste scale Di cobblestone Vicino alle parti in legno In modo da dare Quest'idea Un po' più tridimensionale E poi Ho messo Queste Staccionate Con un dislivello Di un blocco Se vedete Da lato a lato Che poi vanno a finire In quelle altre staccionate Che calano Con delle lanterne Per illuminare Un po' la zona Sotto I quattro balconi Che rimaneva sempre in ombra È arrivato il momento Di fare lo scalpo La torre Sì ragazzi Quando intendo lo scalpo Intendo che Immaginate che La torre Sia io Noi faremo così Toglieremo il tetto E ne costruiremo Un altro più bello E questo nuovo tetto Farà anche da fondamenta Per il seguito Della torre Per la nuova area La nuova parte Della torre Allora Per ora ho preso Un po' di blocchi di vetro Ho preso Staccionate E vari tipi di legno Perché ancora Non sono bene deciso Su come muoverci Lo faremo un po' a momento Prendiamo anche Dei pannelli Magari Uno stack No non ne ho altri Quindi vabbè Va bene così Per ora E poi Quello che voglio prendere Sono i blocchi Di dark prismarine Che Ah ok Sono qua Oddio Sono pochissimi Pensavo di averne Molti di più Ok devo farmare La dark prismarine Assolutamente Facciamo dalla nostra Uscita per elitra E planiamo direttamente Sopra la torre Perché in fondo Non dobbiamo Entrare dalle ascensori Tanto qua Faremo un disastro Quello che vado a fare Essendo che la torre Continuerà verso l'alto Ha male in cuore Lo so che a molti di voi Dispiace Molti vogliono il cambiamento Alcuni Diciamo no E vi devo dire Che a me Per primo Da davvero Fastidio E mi fa male Togliere blocchi Da questa torre Vi giuro È una sensazione Terrificante Ma è ancora Più appagante L'idea di fare Qualcosa di più fico Quindi Lo sto per fare Prima o poi La ricostruiremo Ma al momento Ragazzi Questo è uno Dei momenti Più sad Top anime Death Del 2019 Probabilmente Perché stiamo Facendo lo scalpo La torre Ragazzi È necessario Questa parte Non serve più In questa parte La torre Crescerà Diventerà più alta Quindi qua dovremo costruire Una base Su cui costruire Costruire una base Su cui costruire Ma che cavoli sto dicendo Comunque In tutto ciò Scendiamo un attimino Mettiamoci giù la shulker Sì mettiamola Tranquillamente qua Chi se ne frega Andiamo a scaricare un po' di oggetti Perché se no Non riesco a lavorare Allora Prima di finire Di fare lo scalpo Come stavo dicendo Simpaticamente Ma neanche troppo Un'altra cosa Che vorrei fare Per definire meglio Queste balconate Che ancora non so Come gestire Perché sicuramente La parte sopra Verrà modificata Con tutto L'ambaradam Che faremo Però La parte sotto Non l'ho ancora toccata Stavo pensando Di fare una cosa Molto semplice Così Quindi prendiamo Le stesse staccionate Che poi in realtà Ne ho portate altre E nel punto Dove le togliamo Ne mettiamo una E due Questo Se me la fa Perché non me la fa mettere Pronto Ok eccoci Questo darà Un dettaglio extra All'estetica Della torre Vista da fuori Perché è abbastanza Piatta E soprattutto Utilizzando questi due tipi Di legno Quindi l'abete e la quercia Almeno in questa Prima fase Della costruzione In questo modo Abbiamo un richiamo Anche in questa Palconata E poi ovviamente Anche nelle altre Ora Sto togliendo le staccionate Quello che poi farò Logicamente È posizionarle Missando clamorosamente Tutto Finché non trovo La giusta via Della costruzione Quello che farò Sarà Mettere I blocchi di vetro Perché non abbiamo spazio Per fare dei pannelli Che si linkino Quindi dobbiamo utilizzare Per forza di cose I blocchi In questo caso E poi direi anche Di uscire E di dare uno sguardo All'estetica del balcone In questo modo Non cambierà tantissimo Noterete Però è già qualcosa di meglio Ok Ho finito di Operare Nel reparto Balconate Ora sono tornato Qui in cima Perché adesso Ragazzi È inutile dire Che ha mal in cuore Mi fa male Il petto All'idea di suggerla torre Lo devo fare E lo faccio Non si torna indietro Abbiamo preso questa decisione Tutti insieme Ne siamo tutti responsabili E sono sicuro Che ne gioiremo tutti Perché è il progetto Forse che mi Mi stimola di più Da un sacco di tempo Vi devo dire la verità Non vedo davvero l'ora Di vedere Un'altra torre Come quella E quella Però sarà la mia base Principale Cavoli E sarà davvero Qualcosa di fico Ho già in mente Un sacco di dettagli Davvero incredibili Comunque ragazzi Adesso Devo solo spaccare Quindi lo faccio Off camera Perché non c'è niente da dire Ci vediamo Non appena ho finito Di fargli lo scalpo Ehi Eccoci qui Fa una stranissima sensazione Guardate Ho proprio Tagliato di netto La capocchia Della torre È una puntata Questa è l'insegna Della sofferenza Perché è l'inizio Di tutto E guardate Oh Ok non l'avevo ancora vista Con l'elitra Planando Da lontano Però fa un certo effetto Allora come vedete Ho fatto a fettine La testa della torre Devo dirvi la verità Ho tolto la parte peggiore Della torre Perché i tetti Di queste Cupole Che avevo fatto Erano davvero Terribili O perlomeno Ci stavano una volta Adesso Che abbiamo sbloccato Nuovi stili E nuove skill Direi che Non ci sta per niente Comunque Visto che non riesco Ad andare sulla torre Vado a dormire Poi risaliamo per lavorare Raga Prima o poi Mi demonetizzano i video Per colpa di sta cosa Che fa cose Io ve lo dico Comunque Torniamo su Sì Dovevo prendere le impalcature Lo so Mi dimentico le cose Come vedete Ho L'alzheimer Nonostante la mia età Comunque stavo dicendo Vorrei fare Dei tetti Simili A quello dell'ingresso Quindi non quello Ma quello Subito là sotto E simile all'ingresso Della base Nella zona tropicale Quindi dei tetti Molto a punta Tra l'altro Usando la dark prismarin Vorrei sfruttare molto Questo blocco Che però Va farmato E non sarà semplice Quindi immaginate Tetti spioventi Che si andranno a ricollegare A una struttura centrale Io direi Che la torre Essendo che dovrà Proseguire Ovviamente Sono caduto di nuovo Con una Ampiezza maggiore Perché ovviamente Voglio anche Creare degli abitati interni Potrebbe Andare avanti Seguendo Queste pareti O addirittura Azzardare Un allargamento Ancora maggiore Mega taglio Vado a farmarmi Questa dark prismarin Da qualche parte E ci vediamo dopo Questo è quello Che ho ottenuto Dopo una lunghissima Farmata La mia spada Tra l'altro È diventata rossa Quindi ben presto Dovremmo anche ragionare Sulla spada Ma al di là di quello Sono riuscito Farmando i soli Guardiani Perché blocchi Ormai li avevo già Saccheggiati Quasi tutti Sono riuscito A prendere Queste shard Unite a Forse una Che avevo nella chest Ho queste sacche di inchiostro Ho questi blocchi pronti Quindi Il crafting È Questo Dovremmo riuscire a fare Un discreto numero Di Blocchi Aspetta un attimo Ma stiamo scherzando C'è tutta sta fatica E quanti Cioè Quanti blocchi mi sono fatto In totale Vediamo Con questi sono altri 4 22 blocchi Ragazzi Ma che schifo Raga io Non ho parole Questo Sì mi sono incastrato Intanto Questo è uno Dei peggiori crafting Di minecraft Probabilmente Cioè È estremamente punitivo Perché Questi blocchi Che vai a farmare Cioè Questi oggetti Le shard Che vai a farmare Se non hai una farm Di guardiani Che tra l'altro La mia non funziona Anche bene Perché è minuscola Come fai? Cioè Ci vuole un sacco di tempo E Per ottenere Così pochi blocchi Boh Non lo so Ci sono rimasto male Facciamo che questi Li convertiamo Per intero In scale Perché tanto Li dovrò Rifarmare E Detto ciò Ce ne torniamo sopra E vediamo Che cosa riusciamo a impostare Dopo l'ennesima dormita Perché ovviamente È arrivata la notte Proprio mentre sto andando Se tu continui a fare Questa cosa con il pot Io ad un certo punto Chiamerò il cert Ti faccio portare via Te lo giuro Stavo pensando che Questo blocco E tutti quelli sotto Questo E quello dell'altra parte Li potremmo tranquillamente Rimuovere Perché Danno fastidio E danno una forma Poco armoniosa A queste balconate Oltretutto Mi verrebbe Un tetto Sopra gigantesco Per poco O niente Cioè Non avrebbe Questo grande senso Ora Andiamo a mettere Quindi Una scala qua Ovviamente L'ho messa male E ovviamente Mi è pure caduta di sotto Mamma mia ragazzi Dai che già ne ho poche Ma me le perdo pure In qualche corrente d'acqua Tra l'altro Se notate Ho il pesce Anziché il pollo Perché Il drop dei guardiani Tra le altre cose Dà anche I pesci cotti Apparentemente Quindi Me li sono presi Tanto per cambiare Ogni tanto Con l'alimentazione Ora Ho messo La scala da quella parte Mettiamo Un'altra scala di qua Se riusciamo Senza fare altri drammi Ok E andiamo semplicemente Ad unire Un tetto Di questo tipo Quindi arriviamo qua In questo punto Potremmo metterci La classica Allora questa Non va qui E ho rotto anche la scala dietro Che disastro sto facendo Ovviamente è caduta È caduta Questa struttura che sto facendo Ah Non riuscirò mai a costruire Ragazzi Ho bisogno di farmi Una piattaforma di terra Sotto Per poter fare Questa cosa Da farlo cadere Pure questo Ho questo piccone No Che è troppo forte E mi scioglie i blocchi Mi è caduto Un'altra scala Lo so Ok Questo sarà il contorno Della base Della nuova torre Come vedete È molto ampia Quindi Avrà a disposizione Uno spazio interno Molto più ampio Rispetto a quello Che abbiamo ora Inoltre Lo dobbiamo un attimo Correggere Per correggere Banalmente Quello che dovrei fare È andare In questi punti Aggiungere Un blocco E un blocco Quindi il contorno Sarà un po' più ampio Ecco Vedete ora Che il contorno Che ho preparato Ha molto più senso Inoltre vi faccio vedere Anche Diciamo Dal lato Come stavo facendo Il tetto Che è impostato Con una forma giusta Ma è davvero Troppo basso Quindi oltretutto Ho bisogno Di altri blocchi E ora Non lo posso fare Perché ragazzi Dovrò rifarmare Questi danati blocchi E depredare Probabilmente Un monumento Che mi vado a cercare Perché non è possibile Dovrò fare Tutto più alto In modo poi Da scendere Lentamente E linkarmi A questa struttura Come vedete Questa struttura Ha Un anello Diciamo Che è esattamente Un blocco fuori Rispetto alla torre centrale E la torre iniziale Salvo questi angoli Che si formano Dove A questo punto Dovrò pensare Di costruire Un sistema Per linkare Gli strati Quindi Ad esempio Possiamo iniziare A buttarci dentro Dei blocchi così Una volta che Costruirò Effettivamente Lo strato Dovrò Tipo Incastrare tutto Con scale Staccionate Un po' Il lavoro Che faccio di solito Dunque ragazzi Sto registrando Questo pezzo Questa clip Dopo che In realtà Avevo già finito Il video Perché come avete visto Non ero Riuscito A trovare Abbastanza dark Prismarine Quindi sono andato In un altro monumento E questa volta Ho farmato Direttamente I blocchi Dopodiché Questo è successo Un giorno dopo Il video Che ho registrato In realtà Quindi la sto aggiungendo Giusto in tempo Per editare Ho fatto Ho fatto un po' Di tetto Perché mi dava fastidio Non concludere Dandovi Proprio L'idea effettiva Di quello che voglio fare E il risultato Per ora È questo Quindi come vedete Abbiamo queste Tettoie Adesso facciamo il giro Così si vede meglio Che Vanno a chiudere Queste balconate Che le ho un po' Più squadrate Perché prima Erano troppo Spigolose E poi Sopra queste tettoie Abbiamo Un anello Di dark prismarine Che connette tutto E che Ci servirà da ponte Tra il design sotto E il design sopra Che farà molto uso Della dark prismarine E della dark oak Che inizierà A subentrare A questo livello E poi diventerà importante Nel seguito Della costruzione Cioè sarà proprio Una parte di torre Con Uno stile diverso Se vogliamo Uno stile evoluto E nulla Questo è il tetto Che volevo fare E ho fatto Del progresso E continuerò a farli Probabilmente Fino al prossimo episodio Dagli Che piano piano Ce la possiamo fare Smatterò un sacco Per questa costruzione Io lo so